L'estate è iniziata da poco e sembra essere già rovente. La carenza di piogge anche quest'anno ha raggiunto livelli preoccupanti, con grossi danni per l'agricoltura e l'allevamento. Sono in tanti a chiedersi quanto dureranno ancora sole e AFA e soprattutto anche se i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, saranno caldi come giugno se non di più. Ne abbiamo parlato con Alberto Nobili, storico responsabile dell'osservatorio Valerio di Pesaro, che sebbene in pensione non ha perso la passione di scrivere la storia meteorologica della città. Per adesso è caratterizzata molto dall'assenza di precipitazioni. Già a giugno solo un millimetro di pioggia, un millimetro pochissimo, a giugno mediamente ne cadono sui 60 mm. Ma poi se consideriamo dall'inizio dell'anno siamo sui 150 mm. Una media normale per Pesaro prevede un 280 mm, è un 380 mm circa. Siamo ben 30 mm sotto la media normale. Siamo al 40% delle precipitazioni. Per i primi sei mesi dell'anno, peggio di così solo nel 1945. Come temperature giugno è stato all'incirca un 26,3 gradi. Come temperature massime assolute abbiamo toccato i 35,1, il 21 e il 30. Abbiamo avuto ben 12 giorni con la minima sopra i 20 gradi. Quelle notti dove la minima non scende sotto i 20 gradi sono definiti notti tropicali. Luglio, statisticamente, è il mese più asciutto dell'anno. È partita un po' più fresco di giugno per adesso. Abbiamo avuto anche dei piccoli rovesci specialmente nell'interno. A Pesaro è stato quantificato in 0,0 il rovescio di ieri, poche gocce subito evaporate. Dai prossimi giorni avremo un inaltamento delle temperature. Ancora non abbiamo toccato i 30 gradi a luglio, però a metà settimana e già anche da domani li supereremo anche di parecchio. Forse rientreremo in media per fine settimana. Per la seconda metà di luglio, per adesso, i modelli statistici ci dicono che se non altro le precipitazioni rientreranno in media. La massima assoluta registrata a Pesaro, che speriamo di non toccare, di non variare, risale al 6 luglio 1950 con 39,2 gradi.